Siamo al Codma di Rosciano dove per quattro giorni i volontari della protezione civile provenienti da tutta Italia si allenano per un training camp a gestire naturalmente il montaggio di tende e tutte le operazioni anche di cucina e di coordinamento radio. E' stato scelto questo location perché il Codma si presta a delle attrezzature e l'amministrazione ce lo mette sempre a disposizione quindi per noi è una realtà. Molti materiali anche a livello nazionale sono stoccati qui a Fano quindi piuttosto che fare il training dall'altra parte che ha anche una spesa di trasporto materiali si è scelto per il secondo anno di farlo qui a Fano. Qui sono raggruppati 200 e passa volontari da tutta Italia, probabilmente da tutta Italia, suddivisi in 5 team. Il team comunicazione radio, unità di crisi, cucina, segreteria e logistica. Importante che come avviene in questo momento alle nostre spalle ci sia un capo tenda, un capo equip che coordini i volontari che in questo momento si stanno allenando al montaggio di una tenda. In uno scenario di criticità, in calamità naturali l'importante è che ci sia un coordinamento di tutte le squadre ma l'importante è che quelli che operano sullo scenario siano coordinati all'unisono per ottimizzare i tempi e soprattutto l'intervento alle popolazioni che in quel momento stanno subendo la calamità naturale. La squadra che sta operando alle nostre spalle è una squadra mista? Ci sono persone provenienti da tutta Italia? Esattamente, il formatore in questo momento, il capo tenda è un toscano, viene da Massa, esattamente da Tresana, è un formatore che ha 2-3 volontari provenienti da ogni regione e sta spiegando loro il suo metodo. Naturalmente ci sarà anche quello che ha il metodo diverso perché lui è toscano, magari quello calabreso siciliano che l'avrà fatto in un altro modo, lo studiano insieme, se l'idea che ha portato il volontario della Sicilia è migliore tutti possono metterla in pratica, altrimenti si tira avanti per la strada che il formatore avrà consigliato. Il mondo del volontariato di protezione civile sta evolvendo, siamo lontanissimi dagli angeli del fango, cioè dal volontariato spontaneo che è la forma più nobile del cittadino italiano che in un momento di crisi si mette a disposizione. Il problema è che gli angeli del fango erano a Firenze 30 anni fa, oggi la situazione è completamente cambiata, la formazione deve essere il nostro master.